Ciao a tutti ragazzi, faccio questo video per darvi una piccola comunicazione Innanzitutto mi scuso per il fortissimo ritardo nella pubblicazione dei video dall'ultimo video ma purtroppo è stato un periodo abbastanza difficile, ho dovuto cambiare lavoro il tempo mancava, le feste, mica feste, insomma è stato duro pubblicare un video nuovo, a maggior ragione anche perché eventi non ce ne sono stati in questi ultimi giorni, gli autodromi come ad esempio Monza non hanno fatto track day e così via, quindi è stato un po' complicato io tra l'altro non ho più la mia macchina, non ho più la mia 147 e questa è la cosa fondamentale per la quale faccio questo video ho venduto la 147, quindi acquisterò un'altra macchina, non sto a dirvi cosa, vi dico solamente che ha più di 160 cavalli e non è più diesel quindi cambio di programma totale sul canale faccio questo video principalmente per dirvi continuate a seguirmi perché arriveranno tanti nuovi video molto interessanti sulla macchina nuova che prenderò quindi tante curiosità, tante recensioni, tutorial, guide e così via quindi continuate a seguirmi e non perdetevi i prossimi video grazie a tutti e ciao! Grazie a tutti!